E ora mettiamo a fuoco un'altra cosa che spesso mi capita di notare mentre faccio il colloquio con un paziente, che noto che i miei pazienti stranamente sono degli psicologi, è come dire, hanno delle teorie precise sulle emozioni, su come le cose si possono ottenere e di come non si possono ottenere. E una di queste teorie che la maggior parte dei miei pazienti, ma io vedo che concordano perfettamente con molti altri psicoterapeuti, è che i miei pazienti credono fermamente e hanno come obiettivo di cercare prima uno stato d'animo e poi agire. E infatti spesso mi dicono, io non sono sereno, cosa vuoi della vita? Vorrei essere sereno. E io dico, per farci che? Eh, perché se sono sereno, allora faccio. Qualche di un altro mi dici? Dottore, io non sono sicuro. Dottore, io non ho autostima. E con questa idea che non è sicuro e che non ha autostima, dice, dato che non sono sicuro, non ho autostima, io non sto riuscendo in quello che voglio fare, perché non sono sicuro, non sono sereno, non sono tranquillo, non ho autostima. Qui in questo caso noi stiamo ponendo i nostri pazienti, ma anche nel senso comune si dà per ovvio che è così. Che cioè devo prima cercare uno stato d'animo adeguato e allora quello stato d'animo adeguato mi consente di poter fare le cose. Il problema serio è che io non posso provocarmi con un atto di volontà uno stato d'animo, ma ogni stato d'animo è l'effetto collaterale di un mio modo di pensare. Per cui, se voglio essere sereno, non posso essere sereno dicendo voglio essere sereno. Se penso che la virtù della pazienza mi possa aiutare a fare le cose, io non posso essere paziente dicendo voglio, voglio essere paziente. I nostri depressi, molti dei nostri pazienti vengono da noi perché vogliono fare questa cosa e non ci riescono e chiedono aiuto a noi di aiutarli su questo punto. Direi che quasi tutti gli psicoterapeuti tendono di aiutare i propri pazienti su questi punti, ma è inutile l'aiuto su questi punti perché non si fa altro che fare quello che il paziente ha già tentato di fare in mille modi, mettendoci impegno, mettendoci volontà, cercando di crearsi uno stato d'animo adeguato per poter fare. Ebbene, uno stato d'animo, sia esso la serenità, sia esso la sicurezza, sia esso il fatto che io mi autostimo penso di essere un ganso, e sono effetti collaterali di un modo di pensare. non nascono dal volere di un atto volontario, questo organo non è effettivamente un muscolo, è qualcosa che è capace di produrre le cose, è capace di ottenere e quando ottiene rischia di creare un'emozione o uno stato d'animo adeguato a quello che ha fatto, come abbiamo detto prima per la motivazione. Ora guardiamo nello specifico, io voglio essere sereno, voglio essere felice, voglio sentirmi che ho autostima. Ebbene, per essere sereni, sereno signorio sono quieto, abbiamo già visto che le nostre emozioni nascono dai pensieri, i nostri stati d'animo nascono dai pensieri, per essere sereno noi non possiamo fare a meno di desiderare, perché il nostro corpo è un essere vivente ed è soggetto a due grossi motori, uno squilibrio che crea bisogno e qualcosa che colma questo bisogno che mi fa star bene. Quindi non posso fare a meno di desiderare. Quando desidero, cerco qualcosa che colmi un bisogno. Quando il bisogno è colmo, io sto bene, sono sereno, sono felice, ma la mia felicità è l'effetto collaterale del fatto che ho colmato un bisogno. Come posso essere costantemente felice, costantemente sereno, costantemente sentirmi ganso, sicuro di me? Beh, a desiderare si desidera. Il futuro è sempre incerto, sta sempre lì. Io desidero qualcosa che mi può rendere, che mi può colmare un bisogno per rendermi poi felice, ma quello che mi rende seriamente felice, quieto, sereno è il fatto che noi uomini, quando otteniamo le cose, poi diciamo mi sta bene. Se noi non riusciamo a dire mi sta bene a quello che sono riuscito a ottenere, io non sono felice. Quindi la mia serenità, la mia pace, la mia stessa felicità non dipende da ciò che sono riuscito a ottenere. Se ero un animale era così, ma dalla valutazione che do a quello che ho ottenuto, dall'assenso che la mia funzione umana, che valuta, da a quello che ho ottenuto. Se io dico che mi sta bene, allora, per effetto collaterale di questo pensiero, io sono sereno, posso essere anche felice perché mi sta bene molto, e mi posso sentire anche ganso, perché ho realizzato qualcosa che per me è importante, mi sta bene così. E quindi ho come effetto collaterale che mi sento ganso. E qualcuno dall'esterno dice che io ho autostima e sono sicuro di me. Ma attenzione, mi può sempre capitare nella vita qualcosa che mi aiuta a dire mi sta bene? No, perché io sono anche un animalino. Quando ho un bisogno e c'è qualcosa che colma oggettivamente quel bisogno, io sto bene. Ma come un animale, quando ho un bisogno e c'è qualcosa che non colma quel bisogno, anzi mi crea uno squilibrio ulteriore, non mi sta bene. E come qualunque animale sta male. Ma gli animali che cosa fanno? Gli animali non riescono a ottenere quello che vogliono e si accucciano e aspettano. E non temono oltre questo. Noi però, se non otteniamo quello che vogliamo, ci accucciamo anche. Il corpo ci può anche dire vai a pigliarti un'altra cosa. Ma a quel punto noi ricordiamo e diciamo no eh. Solo se ho quello sono felice. Se non ce l'ho sono infelice. Ecco, questa è la tragedia dell'uomo. La sua felicità dipende dai pensieri. Ma se io comincio a pensare con una parolaccia bischero. E cioè che la mia felicità dipende dalle caratteristiche oggettive di un oggetto, di una persona, di un animale qualsiasi. Perché quel gatto era marrone. E non c'è nessun gatto marrone. E mi è morto. Io sono infelice. Voglio un gatto marrone. E batto i piedi. E batterò i piedi. Mentre un qualunque animale non batte i piedi. Saccucce basta e aspetta. Noi rischiamo di battere i piedi. E perché battiamo i piedi? Perché pensiamo o crediamo fermamente che c'è delle qualità oggettive che ci rendono felice e infelice. Ricordiamoci gli incubi e i sogni belli. Non c'era nulla. Non c'era niente di reale. Erano solo i nostri pensieri che ci hanno scatenato un inferno emotivo. Emozioni terribili. Paure. E non c'era nulla. Non c'era nessuna donna. Nessuna persona. Nessuna situazione. Ma solo i nostri pensieri che ci hanno fatto sentire bene. Quindi dobbiamo tener conto che per l'uomo non esiste nessuna realtà oggettiva capace di renderci felici e infelici. Noi però abbiamo bisogno come qualunque animale. Non possiamo fare a meno di desiderare col mare un bisogno. Però differenza dei nostri animali se diventiamo consapevoli. ci mettiamo lì e mettiamo come una specie di processore dentro di noi che crei un'abitudine a desiderare dato che il futuro è incerto e non ci si piove e non ci piove sopra su questo. quindi a desiderare e ha una specie di processore che ci aiuti a dire sempre sì qualunque cosa ci capiterà dato che il futuro è incerto. quindi se io creo dentro di me un'abitudine a dire voglio questo voglio quest'altro e poi se non ce l'ho perché il futuro è incerto e va bene se non ce l'ho ci adatteremo. Cioè ho messo un processore che dice voglio e poi mi affido alla sorte e accetto qualunque cosa alla sorte mi presenterà a tavola. Sarò infelice? Mi sentirò sempre sereno? Sì. Mi sentirò sempre quieto? Avrò sempre pace? Sì perché dico sì a tutto. ed è un piccolo processore che non mi impedisce di desiderare, di avere passione, di occuparmi di quello che voglio secondo la spinta del bisogno ma riesce a preservarmi dalla tendenza a dire no a ciò che non mi piace, a ciò che non colma il bisogno. Io devo essere furbo, devo sapere, furbo significa che so che mi conosco come sono, so qual è il mio potere sul mio corpo, la mia mente, il mio corpo e risponde a ciò che la mente pensa. Io sto bene, sto male in base a ciò che la mia mente valutativa umana pensa della realtà. No a ciò che è, è qui che noi siamo liberi rispetto agli animali. Noi non siamo dipendenti, noi non ci portiamo un mondo addosso per essere felici e infelici. Noi dobbiamo capire questo, se non capiamo questo rimaniamo incastrati nel nodo del futuro perché rischiamo di dare sempre una grande importanza a dei desideri, rendiamo i nostri desideri importanti per essere felici e quindi andiamo verso un out-out, se ce l'ho sono felici o se non ce l'ho sono infelici. Ma se so che la mia felicità, e lo so per certo, dipende dai miei pensieri, io posso desiderare anche una cosa importante, posso ragionare con l'incertezza del futuro che posso anche non averlo, non c'è nessuna garanzia, ma sono più disposto dicendo io mi affido alla sorte, non posso fare altro e posso fare perché penso male che vada, non sarò infelice perché aggiusterò la cosa con i miei pensieri. Ho già messo un processore che è disposto a dire sì a qualunque cosa la vita mi riserva, io desidero se lo ottengo, festeggio se non lo ottengo. Bevo i calici amari, dico sì ai calici amari e la vita mi presenta e sarò quieto, sarò sereno perché il calice è amaro, sarò felice perché il calice è come me l'aspettavo. Mi sentirò ganso? Sì, perché la mia autostima dipende dal fatto che io sono disposto a desiderare l'odi delle persone e sono disposto a lasciarli liberi di odiarmi, quindi sono disposto a dire sì al fatto che mi odino o che stanno criticandomi severamente. Io dico la mia e poi lascio liberi le persone di odiarmi. Sono queste le applicazioni da mettere per raggiungere in via indiretta la pace dell'anima, della nostra mente e del nostro corpo.